LULU ASM RELAX All'interno ci sono questi due elastichini per mettere la penna o qualsiasi altra cosa io ho pensato bene di mettere dentro il penino touch per il telefono e devo dire che è veramente, guardate, perfetto, così rimane bello ordinato il suo stuccetto. Allora per pulire mi sono preparata un pannetto in microfibra con cui mi trovo veramente benissimo e userò il lisoform disinfettante igienizzante. Io di solito quando devo pulire o disinfettare lo spruzzo sul panno e poi lo passo sugli oggetti da disinfettare. Io col panno in microfibra mi trovo veramente benissimo perché oltre a pulire bene si lavano molto facilmente e prima di disinfettarli se c'è della polvere glielo passo asciutto e tira via tutta la polvere. E' veramente ottimo. Poi un'altra cosa che ho preso non vi ho detto che l'astuccetto l'ho pagato un euro. Poi questo pearl clay tipo slime con tante palline piccolissime. Con questo vi farò un video, l'ho visto lì e siccome video con lo slime non ne ho mai fatti, me l'avete chiesto in tanti e tante volte e non ho mai avuto l'occasione per farlo, l'ho visto e l'ho comprato. Questo l'ho pagato 50 centesimi sempre da Tiger. Devo dire che ha aperto da qualche giorno Tiger e non sono andata subito perché avevo un po' paura del pienone, che ci fosse troppa gente. Allora l'ho aspettato un po' e sono andata oggi che è verdi. Ha aperto lunedì e devo dire che si stava abbastanza bene. Comunque c'era la distanza. Hanno messo dei carrelli apposta per mantenere ancora di più la distanza da una persona all'altra. e devo dire che si stava veramente bene. Poi un'altra cosa che ho preso, sempre da Tiger, un euro, è questa piccola accendina. Più che accendina è un libricino per gli appunti, letterato, rosa ovviamente, perché io amo rosa. E vado a disinfettare anche questo. Il panno è ancora umido, lo sto a spruzzare sempre perché comunque questo tipo di disinfettante è un presidio medico chirurgico, quindi è molto potente. Finalmente forse stiamo ritornando alla normalità, incrociamo le dita. Poi un'altra cosa molto carina che ho trovato è questo bidoncino. Sembra proprio uno di quei bidoni americani che si trovano per strada. L'ho preso perché io disegnando molto spesso e quindi temperando le matite mi serviva qualcosa da avere a portata di mano dove buttare la mina temperata. E nulla, quando ho visto questo mi è veramente piaciuto tantissimo. E l'ho preso, non l'ho preso perché mi è sembrato proprio adatto per temperare e far andare lo scarto della matita dentro, poi richiuderlo e poi andarlo magari a sputare quando poi magari finisco di fare il lavoro che sto facendo. Ecco, io disinferto le cose dentro e fuori perché non si sa che le ha toccate e insomma dobbiamo fare così. Veramente molto molto particolare e carino. Questo è costato 1,50 euro. Devo dire che da Tiger stamattina c'erano degli sconti pazzeschi. Ho pagato quasi tutto la metà del costo. Infatti ho preso delle cosine che non ho preso in precedenza perché costavano un po' troppo. Adesso vi faccio vedere. E le ho pagate veramente poco. Un'altra cosa molto bella che ho preso, che ho trovato, è questa mano in legno. E così sotto a questo vellutino per appoggiarla. Era un po' che facevo il filo a queste mani qui. E stamattina era a metà prezzo e l'ho preso immediatamente. Infatti costava 15 euro prima che succedesse quello che è successo. Insomma, tutti sappiamo. E invece stamattina l'ho trovata 8,50 euro. L'ho presa immediatamente perché è proprio legno. E beh, io adoro il legno e lo sapete. Mi piace l'odore, mi piace i suoni che produce. Il legno è natura comunque. E l'ho preso, vi stavo dicendo, subito e immediatamente. Ho notato però. Ve lo faccio vedere subito, un attimo che la pulisco. Ecco, forse per questo costava metà. Che il dito mignolo rimane piegato. E anche il dito indice, scusate. La falange dell'indice non si rattrezza. Però ho visto che c'è una vite a stella qui. Praticamente dove ci sono tutte le giunture. Quindi se io vado a ditare leggermente, secondo me, si mette a posto. Insomma, si muove come le altre dita. Vedete? La mobilità è questa. Anche qui c'è la vite a stella. Le mignolo, probabilmente se vado con un cacciavitino a svitarla un attimino, dovrebbe muoversi bene come tutte le altre dita. Vedete? Mi piace troppo questa mano. Ho pensato di, oltre che spiazzarla come soprammobile, perché è molto bella, anche magari adoperarla per esporre i miei anelli. E magari metterli proprio nella mano di legno. Ci penserò. Poi, allora un'altra cosa molto bella che ho trovato è questa dita. Sapete che io li colleziono, quindi ogni qualvolta ne trovo qualcuno di diverso e lo compro. E questo è un buda in plastica. Ve lo faccio vedere perché a dirlo così sembra una cavolata. Invece è molto molto carino. E questo qui. Allora, ho notato subito che questa plastica fa un suono stupendo per me. La caratteristica, oltre al fatto che profuma di plastica nuova, che a me piace tanto, e che si accende, quindi la sera si può tenere sul comodino o anche in qualsiasi altra stanza, insomma. Devo dire che si vede poco la luce perché adesso c'è luce a casa mia e giorno, però sono andata in una camera con puio ed è veramente bellissimo. Sembra quasi trasparente. Molto molto bello, molto particolare. Volete sapere quanto l'ho pagato? L'ho pagato solamente un euro e cinquanta. Mi son pentita di non averne presi due. Comunque ci ritornerò. Allora. Puliamo anche lui. Devo dire che non mi pesa neanche pulire le cose, e disinfettarle quando le acquisto, perché comunque sono talmente contenta dopo due mesi di essere riuscita a fare ancora un po' di shopping, che veramente mi fa solo piacere pulirle e disinfettarle. Poi insomma lo faccio insieme a voi, quindi... so che magari a voi piace vedere le pulizie, le cose di casa. Lo show and tell con la pulizia, con le faccende domestiche. Vedete qua sotto c'è l'interruttore. Io non pensavo neanche me, ma era già provvisto di pila e quindi un euro e cinquanta veramente ragazzi. Davvero l'unica cosa che mi son pentita. E non averne appreso un altro. Ma ci ritornerò. Poi, altra cosa molto molto carina che ho trovato è questa palettina con la calamita, che si può ottenere dove si vuole. Io penso che la metterò magari nel frigorifero e la terrò così perché mi piace troppo. E' una tipica palettina per quando si sporca un pochino sul tavolo o da qualsiasi altra parte, a volte invece di metterla nella mano. Con questa è molto molto comoda. Questa qui l'ho pagata solamente un euro. Ce ne erano veramente tantissime, di tantissimi colori. Io ho preso questo color arancio. Puliamo anche questa. Comunque devo dirvi che io ho il vizio di pulire le cose, di dargli una disinfettatina. Quando facevo degli acquisti, lo avevo anche prima, insomma, di mar, febbraio, marzo, insomma. Ecco, ci siamo capiti. Quindi per me comunque non è una novità quella di pulire gli oggetti che acquisto. e di lavare soprattutto l'abbigliamento appena acquistato. Poi, altra cosa che ho acquistato è il quesito. Notice. Guardate che grande, guardate che bello. Ve lo faccio vedere all'interno. Guardate qui quanto c'è da scrivere e da prendere appunti. E questi sono invece dei post-it colorati dove possiamo scrivere su quello che vogliamo e attaccarli, insomma, alla funzione che hanno i post-it. Varie misure, vari colori. E qui magari per scrivere la lista della spesa o le cose da fare. Guardate che grande, amici. Cioè, veramente bellissima. Costata solamente un euro e cinquanta. Un euro. Sapete che non mi ricordo? Forse un euro, eh? Mi sembra un euro. Adesso non ho qui lo scontrino. E andiamo a pulire anche questa. Come non prenderle queste cose, amici? Cioè, è vero che magari sono delle cose che non servono subito. Magari proprio quando uno le acquista. Però a me piace magari prenderle e tenerle conservate. Perché poi comunque arriverà il momento che servono. E questo prezzo non si trovano veramente da nessuna parte. E le cose di Tiger sono molto molto originali, questa penna. Non so se ve la ricordate. È la penna multicolore. Abbiamo un color rosa, verde, giallo, rosso, azzurro e nero. È il colore principale. Scusate se sentite a vai a ricani, ma è pomeriggio e purtroppo ogni tanto si sentono. Comunque queste penne qui io le usavo quando andavo alla scuola elementare. L'ho vista e me la sono presa. Comunque cinquanta centesimi. Ce ne erano una marea. Io le avrei prese tutte comunque. Ma le ho presa solamente una. E da usare magari come antistress ogni tanto. Troppo carina veramente. Un'altra cosa. L'ho trovato veramente a pochissimo. Un euro e cinquanta. E questa scatolina. Con uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, no? Dieci colori diversi di perline. Allora, non so se riuscite a notare. Sono proprio perlate. Quindi sono dieci colori perlati. E sono anche abbastanza grandi. Guardate che belle. Io ho sempre adorato il suono delle perline. Sempre. E quindi visto che le adopero parecchie. L'ho presa. Ovviamente tornata a casa. Mi sono pentita di non averne prese più scatole. Però non importa. L'importante è comunque averle prese. E non averle lasciate lì. Anche perché domani è sabato. Quindi penso che tra sabato e domenica. Ci sarà proprio il pienone da Tiger. Perché ha delle cose troppo troppo belle. Ovviamente non vi faccio vedere oggi. Tutto quello che ho preso. Perché la roba è veramente tanta. Questi prezzi. Cinquanta centesimi. Un euro. Un euro e cinquanta. Veramente ho preso un bel po' di cose. Non me le sono fatte sfuggire stavolta. Perché poi. Quando non prendo qualcosa. Arrivo a casa e mi pento. Mi mangio le mani. Un altro quaderno bellissimo. Che ho trovato. E' questo. Guardate che grande. Con questo sfondo verde. E questi fiorellini. Color pastello. Stupendi. La copertina. Non è di cartone. Ma sembra più che altro. Unmata. All'interno si presenta così. Arriche. E' un bel quaderno grande. Dove si possono prendere appunti. Dove si può scrivere qualche ricetta. Insomma. Molto molto bello. Anche da tenere in cucina. Ovviamente anche di questi ce n'erano tantissimi. Ecco tantissime. Tantarie. Ma ho preso solo questo. Anche perché dovevo anche passare da Primark. E non volevo spendere tantissimo solo qui. E poi magari trovavo qualcosa da Primark che mi piaceva. E magari non mi bastavano i soldi. E quindi ho dovuto un attimino regolarmi. Poi un'altra cosa che ho trovato pochissimo. Questo blog notes. Non so voi amici. Ma io non so mai dove scrivere la lista della spesa. O dove scrivere le cose che devo comprare. Mi mancano. Mi spariscono sempre i fogli, le penne e tutto il fatto. E quindi ho trovato questo a 50 centesimi. Allora questo era confezionato con una plastichina trasparente. Che ho già provveduto a disinfettare prima. E quindi è aperto e non c'è nessun pericolo. Poi mamma amici quanta roba. Coniglietto bianco. L'avevo preso tempo fa color rosa se vi ricordate. Ecco qua. Vedete? E una penna coniglietto. Che chi non lo sa. Non ci arriverebbe mai insomma. Molto molto carino. Io adoro anche i coniglietti. E ho preso anche questo. Un euro. Perché lo metto insieme all'altro rosa. Che avevo preso qualche mese fa. Sempre da Tiger. Poi amici top del top per me. Per la mia collezione. Adesso vi faccio vedere. Ho trovato questi tre diversi Buddha. In tre posizioni diverse. Con tre colori diversi. Guardate che belli. Stupendi. Veramente. Io li adoro. E sono bellissimi. Questi li ho pagati 50 centesimi ciascuno. Li ho trovati molto molto interessanti. Da poter mettere in un piccolo giardino zen. Oppure da posizionare in alcuni punti della casa. Come porta fortuna. Insomma guardate che bello. E sono fantastici. E belli belli. Ce ne erano veramente tanti. Però erano solo di questi tre colori qui. Verde. Rosa. E bianco. Anche questo bianco è molto carino. Sembra quasi la pedina di una scacchiera. Troppo carino. Ovviamente non potevo lasciarmi sfuggire a 50 centesimi. Poi. Questo simpatico maialino porta chiavi. Che io userò sicuramente come antistress. Perché adesso vi faccio vedere. Scusate. Io me ne sono accorta dopo. Perché lo strizzavo. Ma non avevo capito che uscisse. Qualcosina da dietro. E nulla amici. Mi è piaciuto troppo. Un euro. C'erano tanti animaletti diversi. La gallina. La mucca. Il topo. Adesso non ricordo bene. Ma tanti tanti. Però io ho preso solamente un maialino. E' il primo che mi ha colpito. E me lo sono preso. E abbiamo pulito e disinfettato anche il maialino. Troppo bello. Ma non vi dico quanta roba c'era amici. Io alcune volte passavo dritta. Perché se no. Avrei preso tutto. Un'altra cosa. Molto molto comoda. E' questa scatola di legno. Praticamente questa. Fatta in questo modo. Con due aperture di lati. Proprio per poterla impugnare. E' così. Molto grande. Molto profonda. Ci possiamo mettere dentro. Un topo di luogo e poi. Riporci del pane. Oppure perché no. Della frutta. Dei pennarelli. Ci possiamo mettere dentro. Qualsiasi cosa. Anche questa di legno. Ero pagata. Due euro e cinquanta. Solamente. Cioè. Un prezzo veramente. Cioè. Che non so. Neanche il materiale. Costa due euro e cinquanta. Se andiamo a vedere. E quindi l'ho presa. Ne avrei prese altre. Perché comunque. La mia idea era quella di prenderne. Più di una. E impilarle una sopra l'altra. Per metterci dentro le. Le mie cose. Insomma. Il materiale che ho proprio io. Per. Per le mie creazioni. Solo che vabbè. Come vi ho detto prima. Anzi. Che ho un attimo. Una contenuta. E quindi niente. Ho preso solo questa. Allora amici. Spero che. Il video vi sia piaciuto. Come vi ho detto all'inizio. Ho voluto mangiare. Un po' lo show and tell. Con. La pulizia. Fatemi sapere. Se il video vi piace. Se. Ne volete altri. In questo genere. Anche perché. Non ho finito. Di farvi vedere. Quello che ho acquistato. Da Tiger. Quindi oltre. L'ho patata. Di infettare. Vi mando. Un abbraccio. Grandissimo. Vi ringrazio. Per avermi seguito. A presto. Ciao.